Ci aspetta un mese, mese e mezzo molto interessante su Bitcoin ma in generale sull'intero mercato. In questo video, come ogni lunedì, andiamo ad analizzare nel dettaglio la situazione attuale, cosa è successo sul mercato e quali target per questa settimana e quelle a venire. Quindi andiamo diretti come un treno sul nostro grafico, vediamo subito l'andamento di Bitcoin. Qua siamo in macro, quindi ogni candela è, come puoi vedere qua, un mese. Quindi qua ci sono stati, dopo il top, il nuovo volta e mai, ci sono stati 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesi sostanzialmente flat, laterali, in cui Bitcoin si è mosso da un range inferiore di esattamente, se andiamo a toccare il minimo di questa candela qui, siamo a 49.577 e il top, che è quello poi raggiunto massimo, di 73.700. Quindi c'è giusto questo intervallo che sarà tipo di un 30%, stiamo oscillando all'interno di questo intervallo, oscillando andando tecnicamente, come possiamo vedere, a ribasso. Anche se, molto interessante, quest'ultimo recupero che c'è stato come low. Quindi abbiamo fatto un low in realtà più alto rispetto a quello precedente. Quindi c'è una sorta di convergenza che si sta creando e questo tendenzialmente porta a livello tecnico. Poi sapete, chi mi segue da un po' sul canale, che non sono un fan dell'analisi tecnica, anche se la utilizzo, però preferisco posizionarmi sul long term con un'analisi più fondamentale rispetto che quella tecnica. Comunque sia, nel breve termine, se dobbiamo fare un'analisi, questo può sfociare in un bel movimento impulsivo in una direzione o nell'altra. Che cosa aspettarci dunque in questa fase? Andiamo a ridurre un po' il grafico, mettiamo magari un settimanale. Ecco qua, sono le 8.30 di lunedì, tu lo vedrai stasera alle 20. Che cosa sta succedendo? Allora, qui è più lampante la lateralizzazione, direi che si vede relativamente, si vede che è abbastanza discendente la cosa. Quali livelli dobbiamo ottenere sotto controllo? Prima di tutto questo livello qui è fondamentale. Quindi questo livello qua, che è quello intorno ai 60k, è ciò che va abbattuto. Cioè, rotto questo livello, è più probabile che ci sia un ritorno a testare quantomeno l'area più alta. In questo caso sarebbero i 68k. Quindi se ci manteniamo sotto i 60k, è molto più probabile testare le aree più basse, quindi tornare magari sui 52 barra 49k, quindi andare a rimbalzare ancora su questi livelli qua. Questo in caso, diciamo, negativo, faccio una x, ma giusto per avere un'idea. In caso di scenario positivo, invece, in cui manteniamo i 60k, ed è proprio a questo che dobbiamo fare attenzione questa settimana, al livello dei 60k, mantenerci sopra questo livello è più probabile che ci porti verso i 68k come fase di retest. E da lì potenzialmente si può andare più in su. Ricordo che il mio target su bitcoin è tra gli 80k e 90k, quindi più o meno in quest'area. Questo qui è il box che io sto tenendo sotto controllo su bitcoin. E qui che secondo me potremmo andare, a patto che ci siano dei movimenti effettivamente consoni e uno scenario che faccia un po' da propulsore a tutto questo movimento qui. Nice! Tra l'altro, visto che in tanti mi hanno chiesto come sta andando il portafoglio che abbiamo costruito su Bitpanda, lo andiamo a vedere subito. È uscito un video mercoledì scorso, questo video qua. Se ancora non l'hai visto, vallo a guardare perché è molto interessante. Abbiamo costruito in 30 minuti un portafoglio completo, il più possibile equilibrato. Vediamo che nell'ultimo giorno, in realtà, anzi facciamo così, un 7 giorni, giusto per avere un'idea, siamo saliti, abbiamo raggiunto un picco sui 362 qualcosa dollari. Ora siamo ritornati leggermente giù, però comunque ci stiamo muovendo intorno ad una buona percentuale. Negli ultimi 7 giorni comunque siamo a un più 2% circa. Delle nostre risorse nel nostro portafoglio abbiamo messo ETF, criptoindici, materie prime, una parte in liquidità qua che ci genera interessi, su Bitpanda sugli euro mi pare sia intorno al 2.9%, una cosa del genere, l'interesse sugli USD, quindi sul dollaro, 4,60% circa. Comunque più o meno questo è l'interesse, poi punto più, punto meno, ma più o meno questi sono gli interessi che paga sulla liquidità. Queste sono delle cripto, sono degli avanzi, non guardarli. E poi abbiamo dei metalli, quindi ho sostanzialmente creato un portafoglio dentro cui ho messo metalli, ETF, criptoindici e materie prime. I metalli stanno performando estremamente bene, quindi mi stanno tenendo su molto il portafoglio. Le materie prime anche se la sono cavata, agricoltura e cacao, ma voglio vedere in particolare, visto che stiamo parlando di cripto, come stanno andando i criptoindici. Perché non ho comprato cripto singole? Perché le cripto singole in realtà già le acquisto normalmente sui vari exchange, quindi già le detengo. Mi sono esposto al criptoindice di Bitpanda perché credo sia uno strumento estremamente utile. Contando che questo portafoglio è un portafoglio long term, quindi secondo me ha più senso andare a comprarsi un criptoindice con un ribilanciamento automatizzato come questo, nel caso di Bitpanda infatti mi sono comprato, come puoi vedere qui, il BC10, cioè le top 10 capitalizzate, sta performando relativamente male in questo momento, siamo in negativo, dentro che cosa c'è? Ma perché comunque il mercato ci sta, vediamo negli ultimi sette giorni è comunque salito, quindi va bene. Se vado a mostrarti qua che cosa c'è dentro, così da avere un'idea, ecco qua, abbiamo dentro una maggioranza di Bitcoin, un 31.65% su Bitcoin, 28.90% su ETH, poi c'è BNB, Solan, XRP, Tron, ADA, AVAX e DOT. Ogni mese viene fatto un ribilanciamento, quindi se la percentuale qua è salita, viene venduto qualcosa e è ridistribuito, se, prendiamo DOT che è l'ultima, è scesa dalle top 10, viene sostituita con un'altra, quindi diventa una gestione attiva del nostro portafoglio e secondo me è molto comodo, soprattutto per chi ha le prime armi. In più, qua su Bitpanda, hai visto ci sono più cose su cui investire, quindi è ideale per creare un portafoglio diversificato, se vuoi utilizzare metalli, più cose, quindi molto molto interessante. In più c'è una promo, se vuoi, se ancora non hai l'account, te la mostro, così per completezza, puoi ricevere fino a 50 euro bonus. Facendo cosa? Devi semplicemente usare il link che trovi qua sotto, per ottenere questo bonus qui, depositi almeno 100 euro, ogni 100 euro investiti ricevi 10 euro, che puoi utilizzare ovviamente, cioè lì sul tuo conto, che ci sta. Quindi se devi investire 500 euro, investi 500 euro, ottieni 50 euro, quindi puoi comprarti, puoi già crearti il tuo portafoglio, li distribuisci, un tot li metto qua, un tot qua, un tot là e così via, e puoi avere massimo 50 euro. Ricordo, deposito, prelievo, sono assolutamente senza costi, le commissioni sono leggermente alte rispetto, se si vuole andare solo sulle crypto, rispetto agli exchange tradizionali, però comunque ripaga il fatto che hai interessi, è una piattaforma sicura, è una piattaforma estremamente interessante, e hai tutta una serie di funzionalità incredibilmente utili, puoi veramente aprirti su più ambiti, questo è sicuramente una cosa estremamente interessante. In questa fase, per ora siamo flat, gli Stati Uniti, se non vado errato, qualche giorno fa, hanno dato dei dati sull'inflazione, che sono più o meno quelli che ci si aspettava, disoccupazione, idem, non è successo nulla in particolare, ecco, invito a guardare i dati sulla disoccupazione, sono molto importanti in questa fase, perché danno un po' quello che è il metro di analisi del movimento dell'azionario, noi sappiamo che Bitcoin attualmente segue l'azionario, anche se non brillantemente ultimamente, perché l'azionario, l'SP500, sta stampando nuovi massimi, sì, si fa i suoi ritracciamenti, per carità, però sostanzialmente sta andando un po' moon, Bitcoin in questo caso invece è molto laterale da un po' di tempo, ha fatto il suo primo attacco ai massimi, superati, ha siglato nuove volte mai, però attualmente appunto è flat, ci sta, perché questa potrebbe rivelarsi un'area in realtà di accumulazione, o d'altro canto se il prossimo anno effettivamente sarà recessivo, questa sarebbe un'area di distribuzione, quindi è molto probabile che si vada poi su scenari negativi. Personalmente ripeto, sto tenendo d'occhio questo livello qui, quindi quello dei 60k, target più alto qua sui 68k, in realtà più o meno in quest'area comunque 68k, target più basso intorno ai 49k, quindi questo è il target che ho in una direzione o nell'altra, come analisi del movimento possibile, perché questo mese sarà molto importante, l'ho detto già mille volte, vuoi perché effettivamente entrerà un po' di liquidità dagli USA, vuoi perché si inizierà a tagliare i tassi di interesse, insomma tra una cosa e l'altra, è un mese estremamente interessante. Ottobre ciclicamente è un mese buono su tutti i mercati, in particolare anche quello crypto, quindi se avessimo abbastanza forza, quindi con un ottobre che ci dà un po' di clemenza, quindi un mese positivo, e tirano gli Stati Uniti i dati un po' a campare, quindi cercano di portare un po' di liquidità per tenere su artificialmente il mercato, perché a mio avviso una recessione non ce la toglie nessuno, però non si può mai dire, cioè alla fine non sono io che decido le politiche monetarie, io mi adeguo, osservo, analizzo e poi mi adeguo. In questo caso per me è lo scenario ribassista per il prossimo anno, quindi 2025, almeno tutta la prima parte del 2025 è abbastanza preponderante, quindi io credo si entrerà in recessione, poi se non si entrerà in recessione è meglio così, però in questo contesto mi aspetto prima che si tenda a continuare, a cercare di mantenere su una baracca, almeno fino alle elezioni, ecco perché dico un mese, massimo un mese e mezzo, in questo mese, mese e mezzo, bitcoin deve avere lo spazio per fare questo movimento qua. Se il movimento sarà qualcosa del genere, quindi superiamo questi famosi 68k, diventa più probabile che si vada a dare un ultimo sprint, un ultimo colpo sugli 80-90, come nuovo all time I, per poi precipitare nell'inverno nella recessione, oppure si può andare a configurare tranquillamente e vedere come risponde poi a un evento recessivo, perché ricordiamoci che bitcoin è nato tecnicamente per far fronte anche a questo tipo di eventi, ma ad oggi ancora non li aveva testati, è ancora un giovincello, non è neanche maggiorenne, quindi dobbiamo capire come si comporterà in questi termini. Ecco perché in ogni caso io sono contento di come andrà il mercato, perché è vero che sono riuscito già a tirar fuori molta liquidità, rimango ancora parcheggiato con qualcosina dentro, però tendenzialmente ho tirato via la maggior parte della liquidità, però è anche vero che può diventare estremamente interessante in questo contesto, a livello didattico, vedere come si comporta il mercato. Quindi in ogni caso, diciamo sarà una situazione win-win, perché o vado in profitto, sono contento, oppure semplicemente imparo la lezione e l'applico la volta dopo. Questo è un po' il mio approccio personale agli investimenti. Importantissimo tenere queste aree sotto controllo, perché sono le aree in quello che potrebbe essere un flash bull, una flash al season anche se vogliamo, quindi mi tengo pronto la liquidità già parcheggiata, già lì pronta per essere dampata in questo pump. Se effettivamente ci sarà. Se non ci sarà, va bene, rimango con la liquidità che ho dentro appesa, mi faccio il mio bear market, la mia fase di recessione triste, sconsolata, no, a parte scherzi, comunque rimango ancora dentro con una cifra effettivamente che per me posso tenere lì senza problemi. Questo perché sono già uscito in questi punti con la mia liquidità precedente, non chiaramente al top preciso, ma è giusto per rendere l'idea. Cosa importante da analizzare? La cosa importante da analizzare è questa cosa qui, già, la ma ne parlerò poi in un video dedicato. Si tratta dell'M2 Global Liquidity Index. Andrò poi a portarlo più avanti, ne avevo già parlato, con Global Liquidity Index sono molto simili, c'è giusto qualche lieve differenza, ma sono molto simili. Tendenzialmente Bitcoin segue questo andamento. Parte l'ultimo periodo, dove c'è stato un pump incredibile nella liquidità, molto alto, quindi aumentata la liquidità, ma vediamo Bitcoin non è per niente cresciuto, cosa che tendenzialmente fa, mettiamo magari un grafico mensile così da vederlo, eccolo qua, vediamo che tendenzialmente quando la liquidità inizia a salire, inizia a salire anche Bitcoin. Poi quando la liquidità scende, scende anche Bitcoin. In questa fase abbiamo fatto da qua più o meno una salita, Bitcoin effettivamente è salito fino a questo livello e Bitcoin ha iniziato a lateralizzare, poi c'è stata un'ulteriore spinta che però vediamo in questo caso ha funzionato in modo diverso su Bitcoin, c'è andata giù. Mentre l'SP500 ha seguito, così come la maggior parte dei mercati, Bitcoin è andato un po' contro tendenza. Questa potrebbe essere una cosa estremamente interessante. In che senso? Perché ci potrebbe aprire la strada effettivamente ad ipotizzare che qui si stia accumulando veramente pesantemente. E se così fosse, man mano che la liquidità sale, e in questi mesi, almeno mese, mese e mezzo, mi aspetto che salga ancora, allora qui potrebbe effettivamente Bitcoin aver caricato abbastanza slancio da andare poi a colpire e andare a colpire quel target appunto che avevo che è qua, degli 80-90k. Dubito che si possa andare più in alto, mi spiace per tutti i 100k, 120k, terapisti, tudemonisti vari. Questo è quello che personalmente mi aspetto. Spero di sbagliarmi, nel senso che andrà ancora più su, però questo è il mio sentire. Poi si potrà parlare probabilmente fine 2025, inizio 2026. Lo so che la ciclica non dice questo, però io devo guardare anche la macroeconomia che cosa dice. In base a questo mi aspetto poi che ci possa essere invece un bel movimento. Fermo restando che io sono un holder su bitcoin, quindi ho una quantità di bitcoin che accumulo durante tutti i vari cali importanti, quindi in questa zona, in questa zona e così via. Me li vado a parcheggiare, me li tengo lì nel mio cassetto per il long term, quindi parlo di 20 anni di orizzonte temporale. Il resto, una parte speculativa, è quella che vado sempre ad accumulare in queste zone, ma che vado a dampare per creare liquidità. Quindi questo l'ho già spiegato mille volte, giusto per avere un'idea. Ora ti faccio vedere la mia chiave di lettura. Prima di tutto però andiamo a vedere cos'è successo dal 28 al 13. Vediamo che BlackRock non se l'è cavata molto bene in questo periodo. Vediamo che è rimasto praticamente a zero sempre, non c'è stato accumulo, c'è stato qualche scarico in 9, c'è stato qualche scarico in 13. E questo su BlackRock ancora non era successo, cioè finora bene o male si accumulava, per ora è fermo e flat, quindi non si sta muovendo o è a zero, quindi non fa nulla, oppure sta vendendo. Questo è sicuramente un segnale estremamente importante da tenere in considerazione, quindi io ti invito a tenere d'occhio questa fase su Bitcoin, come si sta muovendo BlackRock, perché dico BlackRock? Perché analizzandolo in questo periodo ho notato, cioè da quando è partito l'ETF, quindi da quando ho questi dati, ho avuto una conferma sul tipo di investitore che utilizza BlackRock. Tendenzialmente, al netto di persone comuni, come posso essere io, piuttosto che che vanno a comprarsi l'ETF, l'SP500 di BlackRock e così via su qualsiasi piattaforma, Bitpanda e così via, tendenzialmente si stanno muovendo qua dell'istituzionale, quindi stiamo parlando di persone che hanno un minimo di conizioni di causa, ma istituzionale non significa che, boh, sì, è bravo, lui sa che cosa sta facendo, no, sono persone come noi, anche loro hanno FOMO, anche loro hanno FUD. Lato BlackRock, sto notando invece che sembra esserci un target di istituzionali un po' più consapevoli del mercato, perché tendono a evitare un po' quella che è FUD, FOMO, cioè si stanno sostanzialmente comportando su Bitcoin come un accumulo, quindi come fossero dei cassettisti, come se stessero andando a comprare oro, per intenderci, quindi su, penso, orizzonti temporali lunghi. Ciò non toglie che ci siano delle speculazioni di breve, come abbiamo visto qua, delle vendite, è chiaro che ci sono, però tendenzialmente tendono ad accumulare più che scaricare. Questo mi fa pensare che ci sia appunto una maturità di questo tipo di investitori da tenere in considerazione, quindi probabilmente stanno vedendo qualcosa che noi non stiamo vedendo ed è diventato semplice analizzare questa cosa perché? Perché mentre tutti gli altri vediamo, ma anche solo in questo periodo, Fidelity, quanto sta scaricando, ARC e tutti gli altri, ciò mi fa pensare che ci siano più che altro dei pack di accumulativi, piuttosto che cercare di fare un timing del mercato, cosa che invece vedo fare, per esempio, un po' più su Fidelity e su altri. E questo è sicuramente un metodo di giudizio estremamente interessante, anche dato dal fatto che se vediamo le quantità accumulate sono estremamente più alte quelle di BlackRock piuttosto che di tutti gli altri gestori. Togliamo Grayscale che ha sempre dampato, ma lì è un altro discorso, però tendenzialmente vediamo che le quantità accumulate da BlackRock sono notevoli. Se io scorro un po' in basso, eccolo qua, vado a vedere l'average buy di BlackRock è di 123 milioni. Il minimo, quindi quanto hanno scaricato al massimo, è 36 milioni. Quindi qua vedi c'è un gap. Qua sono tendenzialmente più in accumulo che in scarico. Se io vado su Fidelity abbiamo un minimo di 56, uno scarico di 191. 11.70, 13.102, 2.37, 2.23, 3.20, 3.38, 1.26. Cioè, vabbè, questo qui è Grayscale, lasciamo perdere, però vedi che gli scarichi medi sono maggiori per la maggior parte di ETF rispetto gli acquisti medi. Mentre su BlackRock no. E questo mi fa ipotizzare che sia estremamente più maturo il mercato di BlackRock, l'investitore di BlackRock rispetto agli altri investitori. Però questa è una mia sensazione così leggendo i numeri. Quello che dovremmo vedere in queste fasi è che effettivamente non ci sono stati tantissimi scarichi, c'è un piattume e questo vuol dire probabilmente che anche da questo lato ci si sta aspettando quindi da BlackRock qualcosa se non nel breve comunque nel lungo termine. Questo è molto interessante da analizzare. Ricordiamoci che finché Bitcoin non mi arriva a 80k è molto improbabile che le altcoin facciano chissà quale performance. Con un Bitcoin che arriva a 80k magari iniziano a farsi sentire ed è probabile allora vedere magari un recupero di ETH repentino piuttosto di tutte le altre altcoin principali se non altro. Da lì in poi si gioca la partita quindi bisogna vedere bene come evolve la situazione vedere bene che cosa succede e in base a questo adattare la nostra strategia. io ti ho detto quelli che sono i miei target ti ho detto quello che sto tenendo d'occhio ripeto tieni d'occhio la liquidità globale tieni d'occhio la disoccupazione e quindi come si muove l'SP500 di conseguenza se l'SP500 continua a performare relativamente bene è più probabile che Bitcoin segua perché parliamo comunque di asset speculativi e con gli ETF a tutti gli effetti ci siamo avvicinati molto con Bitcoin all'SP500 e così via quindi da tenere in considerazione da tenere d'occhio in questo mese questi punti qua estremamente importanti i target te li ho dati non si possono fare ovviamente previsioni nessuno può farle però hai un quantomeno uno specchio uno spaccato di quello che sta succedendo sia dal punto di vista tecnico che fondamentale ciclico qua sotto ti ricordo ti lascio il link di Bitpanda ci sono fino a 50 euro bonus che ti verranno erogati sul tuo conto ti lascio anche il tutorial il video che ho fatto in cui costruivo il portafoglio lì ti spiego esattamente come è stato strutturato come è stato fatto qualsiasi domanda dubbio qualsiasi cosa scrivi nei commenti anzi fammi sapere anche che cosa ne pensi tu di questa fase particolare di Bitcoin se sei più bull o se sei più bear scrivilo qua sotto iscriviti al canale se ti fa piacere per ricevere tanti altri aggiornamenti news e analisi di mercato proprio come questa che ho appena visto ti ringrazio per essere stato qui con me un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video